Alla Costituente sedettero solo gli uomini migliori di tutti i partiti. Fu un'assemblea povera e dignitosa che svolse il suo lavoro bene e in fretta. Così titolava l'Espresso del 5 gennaio 1958, ricordando il lavoro svolto dai Costituenti. A loro e al loro operato è stata dedicata una mostra presso la Biblioteca Provinciale di Foggia, organizzata dall'AMPI, inaugurata ieri e visitabile fino al 20 aprile in occasione dei 70 anni della Carta Costituzionale. La mostra è stata aperta da un convegno in cui sono intervenuti Gabriella Berardi e Michele Galante e che ha visto come ospite d'eccezione il professor Luciano Canfora, che ha tenuto una lezione magistrale sul tema Genesi e tenuta della Costituzione italiana. La prima Costituzione al mondo in cui i diritti specifici sono dentro il testo costituzionale fu la nostra. Dal diritto all'istruzione a quello alla salute, dal diritto alla riservatezza a quello sulla proprietà, ha esordito il professor Canfora, che ha voluto specificare come per molti anni, subito dopo l'approvazione della Carta Costituzionale, la parola d'ordine dei partiti in Italia fu applicare la Costituzione. Una parola combattiva in un paese che era appena uscito dal regime fascista, ma che forse, democratico, non lo era ancora mai stato. Dopo aver toccato le tante questioni che arrovellarono le menti dei costituenti, il professore merito dell'Ateneo barese ha analizzato alcuni degli articoli della Carta fino a soffermarsi in chiusura sul sistema elettorale. Sull'inappropriatezza del sistema maggioritario che di fatto non garantisce che ogni voto sia realmente uguale, determinando che buona parte della società non si senta rappresentata. Parole, quelle di Luciano Canfora, che hanno fatto riflettere su quanto questa Carta della nostra libertà, parafrasando Calamandrei, sia viva e attuale.